Oltre 50.000 casi di Covid positivi, 162.212 informazioni ai contatti sulla profilassie, 180.000 telefonate. E' questa la storia di un anno di tracciamento riguardo al Covid in provincia di Arezzo. Un anno è un periodo apparentemente breve, ma il lavoro fatto da questa struttura è stato fondamentale della battaglia contro il Covid, ricorda il direttore generale della ASL Toscana Sud-Est, Antonio Durzo. I numeri evidenziano uno sforzo oggettivamente eccezionale, almeno 10 ore al giorno di lavoro, 7 giorni su 7, senza dimenticare che questa era la prima esperienza di questo tipo. Un lavoro di decine di giovani è sicuramente non semplice, perché si è trattato di trasmettere informazioni ai cittadini, leggi circolari, in una materia sanitaria così specifica e sempre in evoluzione, come è stata la malattia del Covid. Abbiamo telefonato a persone di tutte le fasce di età, qualsiasi estrazione sociale, qualsiasi livello di istruzione, giovani, anziani, lavoratori disoccupati. A sottolinearlo è Daniela Cardelli, che ha diretto la centrale del tracciamento fin dal primo giorno. Abbiamo fatto il tracciamento Covid anche in lingua inglese, francese e di altre nazionalità. Ci siamo avvalsi dei mediatori culturali, organizzando telefonate a tre voci. Il lavoro della centrale di tracciamento del centro affari comunque non si ferma, conclude Cardelli. Lavoriamo al 100% e lo faremo fino a quando sarà necessario.